Un pesce, come? Ma ci ho fatto a brosa, come? Vabbè, che cosa sa? Ehi, scherzi, niente, non c'è la stagionata sa? Oh, hai cambiato coloro, lo metto! Oh, sta male! Sta male veramente, non è uno scherzo! Sta male, il toniglia! Sta male! Sta male, sta male, è un piano! Che succede? Sta bene, va bene! Sta male, sta male! Ma no, aiuto! 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 Aspetta, aspetta, vediamo! Che cosa sa? Che cosa sa? No, 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 sta male! Faccio un pochino! Oh, aiuto! Un dottore! Ho speso 20 euro! Uffa, aspetta! Che smanico, vado io, vado io! Aspetta, aspetta! Calma, calma, calma! Che sta succedendo? Sono io un dottore! Che sta succedendo? Ma mio marito sta avendo un infarto! Infarto? Signore, io sono un dottore in filosofia! Ah! Dottorso, però, in filosofia! Vabbè, ma lui sta morendo! Eh, signore, prima o poi tutti dobbiamo morire! E scusi, si sa! E poi di filosofo! E allora, meglio a lui che a me! Eh sì! Ci stiamo facendo prendere al panico inutilmente! Ah, ragazzi! Forza! Che la gente è venuta anche a rilassarsi qua! Grite, grite, grite! E dove vogliamo rilassarsi qua? No! 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 Vabbè? Sì! 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 Grazie a tutti.